Sì, questa stagione è terminata dopo il giro di qualificazione per poter partecipare ai campionati italiani due weekend fa a luglio appunto si sono svolti a Roma i campionati italiani di bodybuilding fit Italy e dopo sei anni ci siamo rimessi in gioco e è andata piuttosto bene direi ho vinto la categoria classic physique over 40 e ho partecipato anche a un'altra categoria over 40 però in questo caso bodybuilding e ho fatto quarto in quella categoria Adesso si pensa già ai mondiali? Adesso tiriamo un attimo i reni in barca perché sei mesi di preparazione e dieta ti stancano un po' e penso di sì, vediamo un po' se ci sono tutti i requisiti per poter partecipare ai mondiali che si terranno in Spagna a novembre, io proverò ad esserci anche lì Cosa significa farsi allenare da un bodybuilder? Eh beh, sicuramente è un grande stimolo, da soli si fa decisamente più fatica ma in coppia poi con Gigi è tutto un altro andare è motivazionale, ti stimola a dare sempre di più, a fare sempre di più e quando poi i risultati arrivano diventano anche gratificanti perché questa attività la si fa non solo per far accrescere la massa muscolare ma anche per abituare la mente a lavorare in un certo modo alimentarsi nella maniera giusta, corretta e quindi a perdere peso e a rispettare tutto quello che è il mondo delle malattie cardiovascolari e quindi sicuramente una buonissima cosa corpo sano, mente sana